E' stato lo chef Nando Melileo di Villa Setarea Salerno, vecchia conoscenza del Golfo di Policastro, per le sue performance alla Cantinella di Villa Mare, a vincere la seconda edizione del Festival Gastronomico, andato in scena all'8 e il 9 agosto a Policastro Bussentino. Il suo piatto, riso carnaroli, mantecato al formaggio bufalino, con crudo di gambero, lime e fragoline di bosco, è riuscita a spuntarla su quello realizzato dallo chef del Fannis Pub, Natalino Pascale, una sfogliatina calda al fico bianco con creme brulee ai frutti rossi e gelato al fico. Pascale, nel duello finale, ha dovuto arrendersi ad un onorabilissimo secondo posto decretato dall'esperta giuria. L'allegria della nostra Francesca Pellegrino, che ha condito la serata, non è mancata, anche se la tempesta estiva, battutasi anche su Policastro ieri, ha costretto gli ospiti della seconda serata del Festival e un ridotto ma convinto pubblico a riparare presso i locali dell'hotel Torre Oliva per lo svolgimento del concorso. Nessun problema, il Festival è proseguito con tutte le sue componenti, il balletto, la musica, le esibizioni, le imitazioni di Antonio Mezzancella e ha regalato ai coraggiosi rimasti, nonostante tutto, un'ora di sano divertimento con le gag di Enzo e Sal, comici di Made in Sud, noti per il loro numero dell'incazzatore. Il successo del Festival era però già stato decretato la prima serata, quando un folto pubblico ha seguito in piazza lo spettacolo e i momenti gustosi proposti, che ritroveremo sicuramente nel corso dell'anno con gli sfiziosi separietti di 105 con gusto. Grazie per la visione! Grazie per la visione!